In tutto il mondo, i bambini come me e te hanno un ruolo speciale da svolgere. Vuoi sapere come? Il mio primo potere speciale è quello di ricordarmi di tenere le mani pulite, lavandole subito quando torno a casa. Il mio adulto è canto buon compleanno due volte per assicurarmi che tutti i germi siano spariti. Il mio secondo potere speciale è quello di proteggermi dai cattivi germi che entrano nei nostri corpi. Per farlo, tutti dobbiamo indossare una copertura per il viso quando siamo lontani da casa. Sembro davvero misterioso nel mio. Che aspetto hai nel tuo? Il mio terzo potere speciale è sapere come fermare i germi dal volare fuori dal mio corpo, starnutendo nel mio gomito. E' ciù! Facendo questo, impedisce a qualsiasi germe di volare in aria, dove qualcun altro potrebbe respirare. Che schifo! Sono così felice di poter condividere i miei poteri speciali con te. Ti eserciterai con me. Mantieni le mani belle pulite. Proteggici dai germi cattivi. Proteggere gli altri dai nostri germi coprendo i nostri starnuti e tosse. In questo modo possiamo fare la nostra parte per proteggere coloro che amiamo. State al sicuro tutti!